Ciao a tutti, volevo presentare il nuovo menu di configurazione dello Smart Power e dello Smart HR. Entrando nel menu di configurazione, configura Smart Power e Smart HR, abbiamo la possibilità di attivare le due funzionalità Smart HR, che significa Earth Rate, cioè il funzionamento dell'assistenza automatica in funzione del battito cardiaco, oppure dello Smart Power, cioè in funzione della potenza gambe. Nei tre puntini in alto a destra è possibile attivare la modalità per esperti. Vi spiego il funzionamento attraverso lo Smart HR, cioè del cardiofrequenzimetro, che è molto più semplice. Attivando lo Smart HR è possibile impostare le pulsazioni di allenamento, cioè il riferimento dei battiti cardiaci, che si vuole mantenere. Con il nuovo menu di configurazione è possibile stabilire per ogni livello di assistenza, eco, trail o turbo, il range di funzionamento. In pratica lo Smart HR non è nient'altro che una variazione automatica dell'assistenza in base alle vostre pulsazioni. Praticamente io in questo esempio ho impostato 160 battiti per minuto. Se le pulsazioni supereranno questa soglia di 160 più i 3 bpm che ho impostato in questo menu a tendina, l'assistenza verrà aumentata. Se invece è inferiore verrà diminuita. Attualmente in questa configurazione non è attivata per nessun livello di assistenza, perché la spunta di fianco a eco, trail e turbo non è presente. Nel momento in cui attivo la spunta, mi verrà il pallino, si presenterà, ci saranno tre pallini da configurare. Il minimo, il massimo e l'assistenza di riferimento, che io chiamo assistenza statica. Col nuovo menu di configurazione posso muovere il minimo e il massimo direttamente da questo menu e posso variare anche il valore di riferimento. In questo caso potete vedere ho impostato il minimo all'1% e il massimo al 35%. Questo vorrà dire che se le mie pulsazioni saranno più alte di 160 più 3 bpm, la percentuale di assistenza comincerà a incrementare fino a un massimo del 35%. Come varierà questa percentuale di assistenza? Attraverso i ritardi impostabili nel menu sotto. Cioè ogni due secondi che il mio battito cardiaco rimane sopra la soglia impostata, viene aumentata l'assistenza di questa percentuale, del 2%. Posso scegliere diverse percentuali di incremento. Io consiglio, siccome il battito cardiaco, il corpo umano è abbastanza lento a reagire alle variazioni di percentuali di assistenza, consiglio di avere dei ritardi di incremento di assistenza anche fino a 4 secondi, altrimenti vi troverete ad avere un'assistenza molto alta e il cuore non è ancora riuscito ad abbassare le sue pulsazioni perché ovviamente ha una reazione molto lenta. Nel menu sotto invece è possibile decidere ogni quanto ridurre l'assistenza. La riduzione avviene quando il battito cardiaco scende sotto i 160-3 della soglia impostata, quindi i 157. Quando si lavora in soglia invece non viene toccata l'assistenza e rimane la percentuale impostata in quel momento. Con il nuovo menu di configurazione è possibile più facilmente capire tutti i parametri, il minimo e il massimo configurabili perché ad esempio l'eco può andare soltanto dall'1% che è il minimo fino al 49%. Il 49% come potete vedere è il valore di trail meno 1. Infatti se io attivo lo smart power, lo smart HR anche in trail ho la possibilità anche qui di far variare il minimo e il massimo scusate il massimo e il minimo fino all'11% che è il valore di eco più 1 e il 99% che è il valore del turbo meno 1. Con questa possibilità io posso configurarlo molto più facilmente e molto più visivamente tutto il range di variazione delle percentuali di assistenza. L'altro parametro abbastanza importante da poter cambiare è questo minore tendina che solitamente io imposto l'eco per il livello di assistenza dove giro più frequentemente e invece quando sono stanco lo metto in trail quindi se voglio avere più assistenza basta che scendo di battiti cardiaci quindi l'assistenza mi verrà data prima. Stessa cosa anche in turbo posso decidere di scegliere il minimo e il massimo del valore. Come potete vedere se io modifico il valore statico del turbo il valore massimo del trail dello smart HR mi cambia questo perché i valori di eco, trail e turbo non possono mai essere sovrapposti altrimenti la levo, la chinevo vanno un po' in casino con avere un livello di assistenza più alto dell'altro. fatto l'esempio per lo smart HR per lo smart power il funzionamento è identico solo che invece che lavorare sulle frequenze cardiaca lavora sulla potenza gambe cioè la potenza che si imprime sui pedali io come potenza di allenamento imposto 190 watt con una soglia di range che lavora con più o meno il 15% e anche qui come l'ho imposto in eco mi varia praticamente dall'1 al 49% solitamente però io uso un altro settaggio che vi faccio vedere perché uso il turbo lo metto sempre al 100% così il trail lo porto il valore di mezzo lo porto a 80% 80% ok così posso far variare l'eco da da 1 fino a scusate 80% ok e in trail invece lo faccio variare da 1 a 99% in questo modo ho impostato in eco a 190% cioè quando viaggio normalmente che non sono stanco diciamo così invece in trail lo porto a più basso livello così ho sempre un minimo di assistenza dell'11% e una potenza gambe di 171 watt invece che 190 questo mi permette di fare meno fatica perché la percentuale di assistenza verrà aumentata quando io imprimerò meno potenza gambe e quindi mi aiuterà ne aiuterà di più per lo smart power consiglio di non utilizzare le percentuali diciamo a mano delle percentuali di assistenza ma consiglio di utilizzare gli automatici perché viene calcolata automaticamente la percentuale di assistenza che viene richiesta in funzione della pressione che si spinge sui pedali sia per l'incremento sia per la diminuzione ovviamente lo smart HR e lo smart power possono funzionare contemporaneamente nel momento in cui funzionano contemporaneamente questo cosa vuol dire che se e con questa opzione qui collegato allo smart power lo smart HR è collegato allo smart power vuol dire che se il mio battito cardiaco è alto verranno diminuite automaticamente la potenza gambe impostata questo perché ovviamente se il battito cardiaco è più alto vuol dire che io sto facendo fatica quindi ho bisogno di un'assistenza una percentuale di assistenza più alta cioè che mi intervenga prima quindi deve intervenire quando io faccio meno forza con le gambe quindi inizialmente supponiamo che un battito mi va a 165 se io ho una potenza gambe impostata a 190 mi scenderà questa potenza gambe di riferimento a 180 così se io spingo anche soltanto 190 mi sale subito l'assistenza spero che con questo nuovo menu di configurazione il funzionamento dello smart power dello smart HR sia più chiaro ovviamente rimane sempre la possibilità di poter salvare e ripristinare tutte le configurazioni questo è il mio sottaggio che uso solitamente ciao a tutti grazie